Anche MSI entra nel mercato degli Ender e lo fa con la sua Clou, che può sembrare simile ad una Rogalai, Steam Deck, Aya Neo-kun, non tanto la Legion Go che è un concept diverso, ma in realtà dopo che ci ho passato qualche giorno, l'ho approfondita un po', c'è qualcosina di diverso e probabilmente non è ciò che vi aspettate. Chiamiamo subito una cosa per chi non segue proprio questo mondo, la MSI Clou, così come la Rogalai, Steam Deck e compagnia cantante, può essere chiamata console portatile, ma secondo me non è proprio corretto da questo punto di vista, perché sono dei veri e propri PC and held. Chiarito questo, devo ammettere che sebbene esegua tutti i trend del mercato, esteticamente la MSI Clou è un bel prodotto. Costruito bene, le dimensioni sono parecchio contenute e la cosa che mi ha colpito di più è il peso, circa 675 grammi, che in mobilità comunque saranno più o meno comodi. La presa è ottima, si vede che MSI ha avuto tempo per studiare in mercato e proporre qualcosa in più dal punto di vista ergonomico, che risulta ben studiato. Fin da primo momento il feeling con i device vi sembrerà piacevole e naturale. Poi ci sono tutti i pulsanti, switch, trigger e direzionali che hanno un buon feedback, da quel punto di vista tutto sembra in ordine, non ho mai sentito qualcosa che mi facesse storcere il naso, ma dovrei comunque utilizzarla di più per dare un giudizio definitivo. Ma la Clou mi è piaciuta molto per ciò che c'è dentro, e non sto parlando solo della piattaforma Intel. Ok, sapete tutti che è dentro un Intel Core Ultra 7155H con 16 core, di cui 6p core, 8e core e 2lp e core per un totale di 22 thread, con una sezione per intelligenza artificiale e media engine, ma soprattutto la grafica integrata Intel Arc con supporto a ray tracing e upscaling Intel XS. In più la configurazione si chiude con 32GB di RAM LPDDR5 a 6400MHz ed anche un Tera di SSD PCI Express velocissimo. Quello che però è passato poco è che questa MSI Clou potrebbe essere la console handheld dissipata meglio sul mercato. Purtroppo non l'ho potuta aprire, ma sul sito MSI c'è già un bello spoiler di come sarà dentro. Si notano due pipe, due belle ventole e due radiatori. Poi magari si potrà aggiornare il modulo SSD e, cosa molto importante, dentro c'è già un Wi-Fi 7 per scaricare al meglio tutti i grandi titoli disponibili. Altra cosa importante da sottolineare è la batteria interna con i suoi 52Wh che sono tanti per una handheld probabilmente a memoria, e la handheld con la batteria più grande soprattutto saranno importanti perché c'è la modalità performance extreme a 45W che per la cronaca sono di nuovo tanti. Questa modalità performance extreme può essere attivata solo con l'alimentatore collegato, quindi con un consumo più basso questa Clou potrebbe permettere più ore di gioco in mobilità rispetto alle altre. Il display poi è da 7 pollici a 120Hz di tipologia IPS e devo dire che sebbene sarebbe stato meglio puntare belli diretti ad un OLED, la qualità del pannello è decisamente valida. È un display molto luminoso e con dei colori belli accesi. Allora, tenendo conto che il sample che ho provato di questa MSI Clou era un modello pre-produzione, poi ne ho provato anche un altro, ne ho provati veramente tanto, ho avuto modo di toccarla più e più volte, e vi devo dire che con tutti i sample che ho provato le prime impressioni sono state super positive. Per dire, una cosa che mi ha colpito sono stati i due speaker da 2W che sebbene non sia una specs incredibile, hanno fatto il loro dovere all'interno del CS di Las Vegas che ha un ambiente più che rumoroso. Ho provato qualche gioco, ho avuto una bella e lunga sessione con Assassin's Creed Mirage e devo dire che sia nella modalità extreme a 45W che quella standard scollegata a 30W, le prestazioni erano veramente interessanti. Non mi voglio sbilanciare su FPS, temperature, prestazioni, nel dettaglio, perché non ho avuto modo di registrare nemmeno tutte queste metriche, anche se ci ho speso del tempo vi potrei dare dei dati indicativi, ma è meglio non farlo ora. Uno, perché il sample era pre-produzione, due, ogni volta che prendiamo un sample ci passavamo magari una mezz'oretta, 20 minuti, in realtà era un sample che aveva avuto un'altra persona che aveva cambiato tutti i settings, alcune cose, magari mi perdevo anche io qualcosa perché provavo a verificare tutti i settaggi e a metterli in ordine per avere una prova un po' più concreta, per raccontarvi cose un po' più concrete, però diciamo che secondo me non arriverà troppo in più là e quindi ne riparteremo. Quindi al momento vi dovete fidare un po' delle mie prime impressioni, così come vi dovete fidare del fatto che la forma dei joystick è buona e la clon generale ha un buon grip. Il display, come ho già detto, sebbene non sia un OLED, mi ha permesso di giocare in interni senza problemi e con una riproduzione dei colori più che soddisfacente, bello vivace e molto luminoso. Sicuramente dovrebbe arrivare su 500 nit, ma pare che il picco sia ancora più alto. Ed ho sbirciato anche il software di MSI Center M e devo dire che sebbene mi sia sembrato basico, in realtà ha tutte le funzioni a posto giusto e non crea inutili confusioni. Mi è sembrato piuttosto snello e poco ripetitivo e che va dritto al punto. Ma un'altra cosa che ho trovato molto, ma molto, molto interessante è la possibilità di poter sfruttare giochi, titoli, app Android attraverso l'MSI App Center. Voi sapete già che su Windows si possono utilizzare anche app e giochi Android, ma non è proprio super intuitivo. Ecco, app player di MSI semplifica un bel po' la cosa ed in più, essendo basato su Intel, i giochi di app Android gireranno meglio. Insomma, dalle prime impressioni mi sembra che in generale questa MSI Close sia stata un po' sottovalutata. Prima di tutto è un bene che Intel con i Core Ultra entri in questo mercato, diventi tutto ancora più competitivo e poi lo stiamo vedendo. È un mercato che cambia di mese in mese, però lei ha una batteria bella grande, una super dissipazione, è molto, molto comoda. C'è la possibilità anche di sfruttare giochi app Android che la rendono anche in questo caso un pochetto più completa. In più c'è anche la combo Wi-Fi 7 e gli LP e Core dell'Intercore Ultra 7 che potrebbe renderla anche molto, molto valida per giocare in cloud con consumi bassissimi qualora arrivassero servizi di streaming ottimizzati per i Core Ultra e spoiler, dovrebbero arrivare perché viste le permesse per sfruttare bene gli LP e Core che, dopo parecchi test che ho fatto e tra un po' me ne parlo, funzionano davvero bene, quindi dovrebbero arrivare app e servizi di video o video streaming, anche cloud gaming, ottimizzati per gli Intercore Ultra. Bene ragazzi, io sono davvero curiosissimo di sapere la vostra perché è davvero un mondo figo, mi appassionano davvero tanto gli handheld, sono molto interessanti e si sta provando a sperimentare per trovare la formula giusta. se ha magari questa clou tra gli Intel Core Ultra che potrebbero sorprendere, si spera, nelle ottimizzazioni driver di Intel e alcune cose fatte bene, la presenza Wi-Fi 7, la dissipazione, la batteria grande, chi lo sa? Magari si inizia a intravedere la forma che può essere più o meno definitiva di questi handheld. Fatemi sapere tutto nei commenti e nulla. Anche per oggi è tutto, un saluto da Bernardo per TuttoTech.net. Ciao!